Musica 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 si è arrivata in questa linea. Anche prima è stata una sorpresa e Magic Collection si è arrivata a cumplire un primo anno di existenza. Pensei a mezz'avano oggi, noi stavamo presentare in turno in un fashion show live qui nel studio per la miratura e la coleccione bonita con Magic Collection. E in sorpresa, a mezz'attene a televidente.